Fin qui in Limu, da qui in poi l'IVA, cambio della guardia e del tormentone. Uno sorregge l'altro, l'uno non può fare a meno del gettito dell'altro. Come dire, fisco e controfisco e anche tutto è il contrario di tutto. Il dibattito già si anima. Qualcuno simila che la compensazione, nuova parola chiave, non può che portare lì, all'imposta sul valore aggiunta, quel passaggio dal 21 al 22%, passaggio che nessuno vuole, ma che dal primo di luglio è già previsto. Giusto per promemoria sulla legge di stabilità varata dal governo Monti all'articolo 480, viene stabilita la rideterminazione dei livelli che ora fa così infuriare imprese e associazioni. Rideterminazione è parola che in contabilità non lascia speranze. C'è l'impegno del governo a evitare, scongiurare l'aumento, certo. Il crollo dei consumi, il potere d'acquisto, quel che va male può andar peggio se l'IVA rialza ancora la testa. Per capirsi però, per evitarlo davvero, ora che tutti hanno capito che colmerà quanto meno il buco della rata di giugno sulla prima casa, non a caso due miliardi vale l'uno e sempre due l'altro, bisognerà inventarsi l'ennesima copertura. Possibile, ma in ogni caso non ora. Maggio deve passare senza scossoni. Il 29, Bruxelles, dovrebbe comunicarci la fine della procedura di infrazione per eccesso di deficit. L'Italia torna insomma virtuosa. Il dibattito IVA si IVA, no? semmai all'indomani. Anche se poi il dibattito è già partito nel consueto stilicidio di se e quanto, come e quando ci costerà. Prendendo come test una famiglia di tre persone, Confcommercio dice 135 euro, Feder Consumatori Adus Beffer in cara a 207 e la CGA di Mestre prevede 88 euro. Per non perdersi la media fa circa 144 euro. La Confcommercio aggiunge anche che l'aumento porterebbe alla chiusura di 26.000 imprese. Ebbene, tanto ci costerebbe. Ferma l'IVA del 4 e del 10%, nel dettaglio la liquida del contendere potrebbe rendere più vuote le concessionarie e più caro il pieno colpirebbe scarpe e maglioni, ma anche televisori e frigo. Se non che, magari ci riescono e nel frigo congelata finirà proprio lei l'IVA. Ma nel frattempo, c'è da giurarci, il tema si scalderà.